Andiamo allo studio del battesimo in acqua e nello Spirito Santo. Studiamo le verità, le bugie. Prendiamo le scritture che diversi cristiani usano per dimostrare il loro punto di vista e studiamole insieme. Qual è la verità sul battesimo in acqua? Perché alcuni dicono che è solo un simbolo, una bella testimonianza di fede. Altri dicono che è essenziale per essere salvato. Senza il battesimo in acqua non siamo salvati. Altri ancora dicono che l'acqua non fa nessuna differenza e quindi non è necessaria. Quindi voglio chiederti Giuseppe, cominciando con la scrittura di Romani 6.4. Alcuni predicatori dicono che il battesimo in acqua non viene insegnato nel modo giusto nelle chiese di oggi perché letteralmente significa una sepoltura con Cristo. Quindi quando vai sotto l'acqua ti immergi nel battesimo. Sotto l'acqua il tuo vecchio io muore. E quando esci è come una risurrezione, una nuova persona che tu stai diventando in Cristo. È anche una cosa bellissima questo, no? E dicono questa è la nuova nascita. Quando tu esci dall'acqua è una nuova nascita ed è questo il momento che tu ti salvi. Ma questa nuova nascita manca a tanti perché non capiscono il significato del battesimo in acqua. Ma è indispensabile per la salvezza. E questo è basato su Romani 6.4 che dice Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita. E tu Giuseppe come spieghi questa scrittura? Dico che la scrittura, sì, è così. Però ci sono due battesi, uno in acqua e uno nello spirito. Ora quello di acqua è giusto o sbagliato? Fino alla Pentecoste era giusto. Cioè ha comandato. Assolutamente comandato, ordinato, guai a testa non lo facevi. Gesù ha detto, Marco 16, colui che avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Fino lì era ancora acqua. Va bene. Sarà salvato perché? Perché poi avrebbe ricevuto lo spirito santo. E poi, però quando viene lo spirito santo, alt. Battenza all'acqua è una cosa che viene dal Vecchio Testamento. Battenza all'acqua è come la legge di Mosè. Va bene. Sì, è certo, la legge di Mosè è logico. La gente veniva lapidata se non la seguivano. Ma fino a Romani 10,4. Cosa dice Gloria Romani 10,4? Il termine della legge? Il termine della legge è Cristo. È Cristo. Quindi arriva Gesù e la legge termina. Perché era sbagliata? No. Era un pedagogo, era un insegnante, una maestra dell'asilo nido per condurci a Cristo. E l'acqua non è che deve continuare a essere venerato come la Madonna. No. Una volta arrivato il compimento allo Spirito Santo, l'acqua, torni a fare l'acqua. Va bene. Quindi il battesimo in acqua è certamente meraviglioso, seppellimento, coprissi dalla purificazione dell'acqua, che ti purifica anche la carne, già che ci sei. E certo ne esci, risorta nuova vita e senti anche nell'acqua, senti i brividi, ti senti diverso, ti senti rinato, ti senti quello che ti pare. Va bene? Ma cosa c'entra? Queste emozioni uno le può avere anche perché si innamora di una donna. L'islamico ha queste emozioni quando prega Mahometto, ma sono emozioni nella carne. Tante queste emozioni non sappiamo se vengono da Dio o da qualcun altro. Quindi l'acqua, uguale alla legge di Mosè, era un tutore, dicevamo. Va bene, ma il vero battezzatore è lo Spirito, è Gesù. Il Signore non avrebbe creato un conflitto di battesimi. Qui c'è un conflitto. Va bene, diamo la gloria al Spirito Santo e diamo la gloria all'acqua. A chi daremo questa gloria? Ma i battesimi sono uno, dice la Bibbia, non sono due. Non sono due, dice la Bibbia, sono uno. Efesini, cos'è? Efesini capitolo 4, verso 5. Dice, quanti sono i battesimi? Angelo a memoria, quanti sono i battesimi? C'è solo una fede, un Signore, un Dio e un battesimo. Adesso lo trovo. 4, verso 5, sì. Efesini 4, 5. Ecco, legge. Veo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Va bene, un solo battesimo. Sicuramente chi ha sbagliato. Paolo non sapeva cosa diceva. Un Signore, non sono due, non sono tre. Ma come, non sono tre dei, la Trinità? No, un Signore. In Dio, in Cristo, tramite lo Spirito Santo. Un battesimo. Qual è? Guardi, dall'acqua. Ma no. Sì, comunque questa scrittura di Romani 6,4 simbolizza una cosa bella, che in Cristo tu risorgi attraverso il battesimo. Dice, questo battesimo è chiamato il battesimo nella sua morte. E così risuscitiamo con Cristo. Infatti, se non esci, muori sul serio, sott'acqua. Ma quando entro lo Spirito Santo, non muori, rivivi. Quindi, capisci, simboleggia la morte, ma Dio è una cosa portarci alla vita. Basta parlare della morte. Sì. Quindi, lo puoi applicare, puoi fare un ragionamento, un discorso che magari vuol dire acqua, che magari vuol dire Spirito. Questo dipende da cosa stai parlando. Lo capisci dal contesto. Sì. Capisci? Quindi dipende di cosa parli. Ma allora, uno può ricevere lo stesso risultato con il battesimo nello Spirito? Quale stesso risultato? Di essere morto alla tua vecchia persona, alla tua vecchia vita e risorgere in Cristo. Ma come muori la tua vecchia vita? E muori... Con il pentimento. Sì. E quindi, l'acqua, ti pentivi nell'acqua perché non c'era lo Spirito. Seguivi la legge di Mosè perché non c'era la legge di Cristo. Ma Dio non vuole un conflitto di interessi. Non vuole un conflitto, allora seguiamo Mosè o seguiamo Gesù? Dio no, la legge è terminata. È la circoncisione. Allora ci circoncidiamo nel cuore, come dice Paolo, o ci circoncidiamo nella carne, come dice Mosè? Conflitto. E Paolo dice, chi si fa circoncidere è tornato alla legge. Cristo non gli giova nulla. E lo stiamo mettendo nell'acqua. Se tu credi nell'acqua, non ti giova niente alla fede in Cristo, fin quando credi nell'acqua. Perché quando hai un problema, c'è un cancro, prega l'acqua. Fatti un tripolo battesimo nell'acqua, perché quindi puoi guarirci, col fischio. Ma uno che fa il battesimo in acqua può anche salvarsi durante quel battesimo? Ah, sicuramente. Ma non per l'acqua, però. Tu puoi fare il battesimo in aria, ti puoi buttare col paracadute e dici, ho deciso di credere in Gesù prima di toccare terra. E ti salvi nell'aria. Un battesimo sommerso dall'aria. Stai attento che non ti sommersi all'inferno, al lago di fuoco credendo a bugie, alle false madonne, false battesimi. Parlavo del conflitto dei battesimi, come appunto c'è il conflitto delle madonne. Qual è la madonna vera? Qual è la Bibbia? Che non mi ha detto a nessuno di venerarla. O l'altra che dice, veneratemi perché questo mi fa così felice, perché poi io vado da Dio e chiedo misericordia. Vedi come sono in gamba. Avete bisogno di me? Io sono l'ausiliatrice. Tu sei una bugiarda. Tu sei la falsa Maria. Guarda, c'è stato uno una volta che, mi ricordo, mi ha detto che un pugliese mi ha detto che aveva cominciato a credere in Gesù e la fede gli era sorta nel suo viaggio a Meggiugoria. E questo era un sostenitore sfegatato dalle statue di Meggiugoria. E gli ho detto ma sai, caro amico, guarda che tu hai creduto, non per le statue o per i messaggi dei Meggiugoriani, ma hai creduto per la tua fede. Quindi non grazie ai Santi, ma grazie a Dio nel nome di Gesù. E lui si è convinto. No, niente affatto. Non si è convinto per niente. Così, perché se ve l'ho lavato, è così, eh? Convinto. Vai a convincere un hindu, un islamico, un testimone di Geo, a dire, guarda che tu stai sbagliando. Non ti ascoltano. Così come noi non dobbiamo ascoltare quando vengono farsi i fratelli, quando vengono i diavoli. come fai? Come fai a sapere che devi ascoltare non devi ascoltare? La parola. La parola. Se c'è gente ha cercato di convincermi, è arrabbiata che io non ascoltavo. Ho detto, ma se tu non mi dà scrittura e mi faccio ascoltarti? Non mi posso ascoltare ogni spirito che si presenta. Dove sono le scritture? Eh, ma Dio mi ha rivelato e Dio ti ha rivelato a te, ma non me l'ha rivelato a me. E allora tu vai per la tua strada e vado per la mia. Cos'è che fa? Come si deve sapere qual è il vero e il falso? La parola. La parola. La parola. Infatti, come tu dici, alcuni credono che la salvezza è nella Madonna, altri dicono che è nella comunione dominicale, lì c'è la salvezza, adesso alcuni dicono che è nell'acqua. Quindi dobbiamo andare alla parola. La parola. Sì, l'acqua sì, ma l'acqua della parola, l'acqua dello spirito. Quindi ci si può convertire, salvarsi in Cristo, si può riuscire allo Spirito Santo ovunque, compresa l'acqua. C'è gente che in acqua ha avuto esperienza. Sì, anche Gesù ha avuto un'esperienza in acqua. Va bene? Ma non grazie all'acqua, ma grazie alla tua fede in Cristo. Va bene? Quindi entriamo nell'acqua, l'acqua cosa fa? Entriamo peccatori asciuti e usciamo peccatori bagnati. Tutto qua. Questa è l'acqua. Va bene? E questo, magari le sensazioni vere c'erano prima della Pentecoste, ma dopo la Pentecoste le sensazioni vere, ci sono anche quelle false, sono nello Spirito Santo. Ci sono certe gente che prova sensazioni a Meggiugorio, a Fatima, nel battesimo nell'acqua. Va bene? E quindi dicevo, tu parli con un hindu, lui è andato in un tempio e ha avuto un'esperienza. New Age, ha avuto un'esperienza. Ma le vere esperienze, ci sono esperienze vere, esperienze false. Hai sentito un'elettricità, quasi rimango secco quando ho pregato al diavolo, quando ho pregato a un idolo hindu. Ce ne sono 330 milioni, puoi scegliere. No, caro. Le vere esperienze, le vere sensazioni, i veri brividi, perché ci sono quelli falsi, è solamente quella nel sangue di Cristo, nello Spirito Santo, nella fede in Cristo, è il suo sangue che ci pulisce e ci salva. Capite? L'acqua non lava niente, solo la spursizia del corpo, dice Pietro. Ma la coscienza la può lavare solo il sangue di Gesù. c'era l'Apocalisse 5? Sì. Ecco, verso 9. Apocalisse 5, 9. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo... Tu sei degno! Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Perché? Perché sei stato immollato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E qui c'è un errore, forse. Forse hai acquistato a Dio con la tua acqua. No, no, no. Con l'acqua di Giovanni Battista. No. Non dice questo. No. Non lo dice. Vogliamo svegliarci? Amen. Io credo che dare la gloria all'acqua terrena per la nostra purificazione sia uno schiaffo sulla faccia di Cristo. Tu stai dicendo anche se tu non ci purificavi col sangue della croce nessun problema l'acqua avrebbe sopperito. E anche se Dio non è misericordioso abbiamo la Madonna a ruota di scorta lei è misericordiosa. fuori binario cari amici religiosi. Senti Primo Pietro 3 21 vai lì guarda sentiamo cosa dice Pietro. Sì questa è una scrittura che loro usano infatti per dire che l'acqua salva. Non è che la usano la storpiano. Primo Pietro 3 21 Perché non dice quello che loro dicono che dice. Quest'acqua era figura del battesimo che non è eliminazione di sporcizia del corpo ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio e ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Ok loro diranno l'acqua ti salva una bugia del diavolo come l'acqua ti salva e così dice ora esso ora salva ma cos'è la coscienza leggi meglio quest'acqua era figura del battesimo che non è eliminazione di sporcizia dal corpo quindi non è l'acqua materiale di rubinetto che pulisce la sporcizia del corpo di quale battesimo sta parlando ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio capito tu devi fare il bagno nell'acqua non c'è nessun problema puoi fare anche una passeggiata sotto un albero adorando il Signore va bene una comunione di preghiera un battesimo di preghiera cioè quello è la tua coscienza che ti salva non è l'acqua ci sono milioni milioni di gente che hanno fatto il battesimo testimone di Geo il battesimo mormone il battesimo di qualche di qualche altra regione regione fuori binario che non sanno neanche cos'è la salvezza cos'è Cristo cos'è la comunione con Gesù non capiscono la Bibbia la leggono ma non la capiscono non la predicano non la insegnano alle pecore però sono battesate nell'acqua come presidente Truman americano che presidente Battista Truman che si è battezzato nell'acqua e poi è andato a sganciare due atomiche sul Giappone cos'è imparato dalla sua acqua di protestante battista ma perché dicono perché nessuno gli ha spiegato cosa veramente significa il battesimo un'acqua lui non ha capito e quindi non è nato di nuovo vabbè allora voglio spiegare scusa spiegagli innanzitutto cosa che l'acqua non serve a niente milioni decine di milioni di evangelici luterani tedeschi battezzati come voleva Lutero che sostenevano Hitler battezzati che gli faceva il batteso niente ma quando ti battezzi nello spirito santo fratello ti cambia il cuore quando apri il cuore sinceramente e ricevi Gesù Cristo il suo spirito santo tu diventi una nuova persona in Cristo le cose vecchie le cose passate sono andate via sono vecchie ecco diventano nuove secondo Corinzi 5.17 alleluia e questo in acqua non puoi farlo puoi fare anche in acqua ma non bevi dall'acqua e allora non cerchiamo di leggere la Bibbia in modo dislexico nel contrario cioè dire che che l'acqua che elimina la sporcizia carnale ci salva è ridicolo e la buona coscienza sta dicendo Pietro la buona coscienza viene da cosa dall'acqua viene da Cristo viene dalla parola che ci purifica col suo sangue e ci salva non l'acqua fisica ma l'acqua della parola e questo spiega perché tanti hanno fatto il battesimo in acqua ma non hanno cambiato niente perché non hanno avuto la buona coscienza quindi è la coscienza che ti salva non l'acqua esatto esatto l'acqua della parola Efessini 5 e 26 sì sì è vero vuoi leggerlo una scrittura di Dora Efessini 5 25 e 26 Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola Amen Amen quindi ci ha ci ha amato e ci ha santificato e ci ha purificato e ci ha lavato con l'acqua del testempo di Geova dei mormoni di Giovanni Battista con l'acqua della parola ma cosa è cosa è l'acqua della parola è un'acqua spirituale è l'acqua che Gesù parlava alla samaritana se bevi della mia acqua non avrai più sete cioè è la parola logico in una parola è la parola se tu vai a bere l'acqua dalla vasca da bagno dove ti fai se hai fatto il battesimo bevi 20 litri e vedi poi si ti purifica purifica niente è acquaccia e adesso dopo la Pentecoste è proprio acqua che non serve a niente è un po' come la circoncisione va bene Cristo ha amato la chiesa ha dato se stesso per lei per santificarla purificarla lavandola con l'acqua dalla parola ma tu lo fai vedere questo ai 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 battezzatori dell'acqua e ti pare che lo ascoltano ma figura cioè non è che permetteranno alle scritture di cambiare le loro direzioni le scritture vanno stortate perché si adattino alla mia immagine a somiglianza quindi fratelli cerchiamo di essere di questi quindi è il sangue di Gesù il sangue di Cristo vai a Apocalisse 7 una scrittura verso 14 e io gli risposi Signor mio tu lo sai ed egli mi disse sono quelli che vengono dalla grande tribolazione essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello Apocalisse 7 14 Signore le vesti sono naturalmente e vuol dire tante cose le tue opere il tuo cammino con Cristo questi hanno imbiancato le vesti con cosa sono vesti spirituali come le imbianchi vai nella vasca da bagno dove fai il battesimo gli metti il detersivo e prendi quello che poveraccio sta battezzandosi lì e gli dai una bella sciacquata shampoo sapone dammi la striglia dei cavalli che lo striglio bene eccoti lì eccoti tutto imbiancato con l'acqua con l'acqua di rubinetto no 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 ma come si fa a credere queste cose ma allora lo spirito santo vada sento la voce di Gesù che dice ma allora io ho mandato lo spirito santo per niente alla Pentecoste e come sento ancora dal Signore come quelli tornarono alla circoncisione i Galati tornarono alla circoncisione e così oggi i nuovi Galati tornano all'acqua Cristo non basta come c'è stata una donna una volta che perdeva sangue ti ricordi una decina di anni che perdeva sangue e una sua cugina mette a telefono che questa qui sta pensando a suicidarsi non ce l'ha sangue ti ricordi quella donna lì in Romania e allora al telefono abbiamo pregato con lei o di persona al telefono al telefono mi pare anche di persona mi ricordo aveva un perdito di sangue da una decina di anni sposata con figli allora abbiamo pregato e il Signore l'ha meravigliosamente guarita gloria a Dio guarita dopo alcuni giorni ho telefonato come se benissimo perdevo sangue tutti i giorni e adesso ho smesso ah l'odio a Dio siete testimoni da tutti sì sì però mio marito e tutti gli altri mi dicono che c'è un appuntamento col dottore e devo andare a fare le sue cure ho detto ma scusa se sono alcuni giorni che il sangue è smesso che vai dal dottore e sai per fare mio marito contento ho detto ma allora darai la gloria al dottore i dottori si prenderanno la gloria che ti danno una pillola e ecco io ti ho guarito non andare dal dottore sei guarita e si è messo a litigare al telefono è una pianta costale e allora litigare al telefono io ho perso un po' la pazienza anche io signore mi perdoni mi sono arrabbiato e ho detto guarda che non ti giova nulla la guarigione se vai da questi qua adesso sei guarita un conto è dal dottore controllare che sei guarito un conto è andare lì per farti curare sono cose diverse e questo no forse ha ragione ha ragione prega per la mia fede ma io devo andare perché mio marito mi sta torturando è andata dopo pochi giorni è morta e io mi sono arrabbiato di nuovo che teste dure che zucche dure e Gesù mi ha detto la scrittura che Dio dice in Isaia io Signore non darò la mia gloria a un altro perché è stata una delle più belle una delle più meravigliose guarigioni perché perché doveva dare la gloria al dottore il dottore doveva controllare se le sue medicine aiutavano un conto va e controlla che sei guarita un conto e il dottore dice dottore mi controlli pure che è così che anche lei testimoni che sono guarita io sono guarita no e andava lì col marito dubbioso dice no no prendi le cure del dottore anche le sue cure le cure che ti dà lui medicina costosa non possono farti male è invece è invece morta io sono convinto mi sbaglierò ma sono convinto che è successo perché lei voleva dare la gloria volevano dare la gloria al dottore la gloria che Dio Dio è un Dio geloso va pure dal dottore a controllare che sei guarito ma testimoni egli è dottore Angela tu c'hai un dittino alzato perché sì perché ho una scrittura che l'abbiamo appena ricevuto da parte di Giuseppino Giuseppino ciao come stai vecchio mio dice una scrittura che va con quella di Dora di Efesini 5 che dice che Cristo purifica la chiesa con l'acqua della parola una scrittura una scrittura che va con quella è Giovanni 15 3 voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata d'accordo ottima scrittura Giuseppino sì quindi la purificazione cioè fino alla Pentecoste d'accordo d'accordo però e quando Gesù quando Gesù parlava qui era valido o no l'acqua dove quando parlava qui lì quella di Giuseppino in Giovanni 15 3 era valido no? era valido era prima della Pentecoste e allora com'è che Gesù può dire la mia parola mi purifica non l'acqua come mai? perché adesso faccio la parte del latte perché non è l'acqua che ti purifica è la tua buona coscienza quando tu apri il cuore e ricevi la parola la parola ti cambia il modo di pensare di vivere di essere sì sì Gesù non battezzava ma battezzavano i discepoli e perché battezzavano i discepoli? battezzavano i discepoli perché la gente voleva battesimo tutti i tromboni hanno pubblicizzato Giovanni lo voleva e loro battezzavano l'acqua però non Gesù perché perché Gesù era già il regno di Dio era già la salvezza era già la grazia era già tutto Gesù e i suoi discepoli già li purificavano con la parola capito? Gesù era già un passo avanti lui nel suo cuore nel suo spirito era già risorto la Pentecoste era già arrivata infatti disse prima della Pentecoste Gesù disse ai suoi discepoli gli soffiossi di loro dice ricevete lo spirito santo nello spirito lui diceva visto Satana cadere dal cielo alt come visto Satana quello in Apocalisse 12 avverrà fra duemila anni quello lì è la quinta tromba Apocalisse 9 9 1 che scende giù apre i demoni come tu lo vedi duemila anni fa ma Gesù vede le proiezioni vede il futuro senti meglio che abbastanza così sì io voglio portare all'attenzione di tutti alcune cose che dice un certo predicatore che si chiama Posson e lui scrive dei libri molte dottrine che sentiamo in giro vengono da questi libri e lui dice che ci vogliono quattro passi per la nuova nascita dice che la nuova nascita consiste in questo uno ravederti dai peccati due credere in Gesù tre fatti battezzare in acqua e quattro ricevere lo Spirito Santo quindi c'è tutto programmato questo qua uno due tre quattro avanti un altro è come quattro come quattro iniezioni di vaccini insomma sì e quindi senza uno di questi quattro passi tu non puoi essere salvato quindi questo ha messo Dio in una scatola a quattro angoli caro mio qual è la tua domanda? è questo giusto è questo biblico perché io so che tu Giuseppe credi nel ravvedimento dei peccati e lo predichi tu anche predichi di credere in Gesù Cristo tu fai battesmi in acqua hai battezzato anche me sì tu predichi il battesimo nello Spirito Santo perché tu hai chiesto ma non perché mi interessa quindi questi quattro punti non c'è niente di sbagliato in questo sono tutti biblici sì ma è sbagliato la burocrazia devi fare questi quattro passi perché altrimenti Dio non funziona Dio è il disturbo dalla legge non c'è scritto nella vostra legge vostra non mia la vostra legge non puoi mettere Dio in una scatola di quattro punti d'accordo vuoi leggere anche perché c'è un altro paragrafo di questo tipo e lui dice che per diventare cristiano non possiamo andare dai Vangeli perché il Vangelo non risponderà a questo e non ti dice non ti dice come diventare cristiano capito questo qui si toglie la maschera questo qui è l'emmissario del diavolo con tutto rispetto e questo qui è un falsario che dice ripeti no il Vangelo dice il Vangelo non risponde alla domanda di come si fa a diventare cristiani perché i Vangeli furono scritti troppo presto in rapporto a questo tema e poi dovremmo guardare all'epistole o all'Apocalisse no perché queste furono scritte troppo tardi tutte le epistole del Nuovo Testamento furono scritte a cristiani già nati di nuovo quindi non c'è la possibilità di trovare come si diventa cristiani questo qua è fuori di mente quindi i Vangeli erano troppo in anticipo le epistole troppo in ritardo anche il libro dell'Apocalisse viene troppo tardi sto leggendo il suo libro adesso non sono miei commenti sto leggendo quello che lui ha scritto mi sembra una cosa circa questa il Vangelo troppo in anticipo l'epistole troppo tardi l'Apocalisse troppo tardi rimane solo il libro del libro degli Apostoli che è proprio da lì che si inizia a capire come si diventa cristiani e chi ce lo spiega lui ma questo qui guarda non devi andare a truffarsi in una vasca battesimale ma direttamente in un pozzo questo qua hai finito le sue citazioni sì cosa pensi di questo qui cos'è che dice Satana affondata nell'acqua battesimale cos'è che dice dice che Satana odia il battesimo in acqua e chi gliel'ha detto e chi gliel'ha detto gliel'ha detto Satana allora qual'è la tua domanda cosa pensi tu di queste affermazioni è vero che nell'epistole nel Vangelo non non ci insegna come diventare cristiani solo il libro di atti in tutta la Bibbia ma cioè guarda cioè questo qui non è cristiano questo qui cioè questo qua è legge secondo Corinzi 11 14 15 cioè non è che non è che uno perché scrive un libro è di Dio cioè ci sono leggi secondo Corinzi 11 14 non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia la loro fine sarà secondo le loro opere ecco ecco cioè praticamente molti imbroglioni oggi vanno in giro con le scritture è sempre successo questo il libro di Geremia fa una sì sì basta che scrivi profeta falso profeta c'è una valanga di falsi profeti che vanno nel nome di Dio a imbrogliare la gente questo questo scrittore di questo scrittore che adesso è morto se non mi sbaglio e questo qui è un imbroglione è uno satanato che usa le scritture per imbrogliare poveracci che si fanno imbrogliare gente che non conosce la Bibbia però conosce il suo libro non studia la Bibbia però studia il suo libro non crede tutte le cose alla Bibbia ma crede al suo libro e altri libri e questi qui la Bibbia è molto dura con quelli che insegnano insegnano le bugie molto dura cioè praticamente c'è una situazione che la loro anima non si salva cioè tu vai in giro non solo sei ingannato che è già abbastanza brutto perché uno è ingannato è sempre colpa sua perché chi gliel'ha detto di non andare a mettersi in ginocchio a digiunare e chiedere a Gesù che gli mostri e Gesù glielo mostra di digiunare e pregare anche saltualmente finché Dio ti parla quindi te che sei ingannato sei altrettanto colpevole come falsi profeti che ti hanno ingannato va bene però insegnare scrivere libri su bugie e questo qui è in pericolo dal lago di fuoco perché stanno abbassando Gesù abbassano Salvatore abbassano Spirito Santo innalzano l'acqua quell'altro innalza la Madonna quell'altro innalza una religione cristiana fuori binario questa gente qui nel giorno del giudizio è in pericolo di dannazione eterna va bene perché alcune delle cose che loro scrivono sono peccati contro lo Spirito Santo neutralizzano lo Spirito Santo quindi va bene dimmi Angelo allora questo dice che nel Vangelo Gesù non ci insegna come diventare cristiani è vero? ma no questa è una bugia del diavolo assolutamente cioè Giovanni 6 47 Giovanni 6 47 trova nella tua lista l'ho trovato nella Bibbia dice in verità in verità vi dico chi crede in me ha vita eterna questo è il Vangelo cioè devi solo credere ma non credere al libro di un imbroglione la fatemi imbrogliare credete al Vangelo è così semplice e una volta ho chiesto a un mormone cosa serve questo libro di Joseph Smith e dice serve a spiegare la Bibbia ma la spieghi spiegami la salvezza e allora questo mi legge l'intera pagina di questo e ho detto ma questo qui è così complicato non c'è capito niente permetti gli ho letto questa scrittura e credi in me alla vita eterna ha detto Gesù e dice questo qui mi sembra più facile più semplice di tutta la tua spiegazione e non c'è capito niente questo era era ammutolito questo questo mormone ammutolito e le epistole insegnano come diventare cristiano? ma logico Romani 10.9 cosa dici? cosa dici Romani 10.9 e 13 confessare con la bocca credere nel cuore e sarai salvato ecco 13 chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato e come le epistole insegna la salvezza ma non insegnano alla gente come lui che ha il cuore chiuso la mente chiusa lo spirito chiuso e l'anima non salvata lui perché la Bibbia è scritta in un modo che gente come lui non poteva capirla Matteo 13.10 diceva parla in parabole affinché vedendo non vedano e udendo non capiscono e io non li salvi perché la prossima scrittura perché hanno indurito il loro cuore per questo parla in parabole quindi la gente che non capisce questo non capisce l'apocalisse non capisce le epistole non capisce il Vangelo il libro degli atti il libro degli atti è scritto come libro cronologico storico questo lo capisce perché è più semplice va bene ma le parabole non ci ha capito niente perché sono scritte in modo che lui non le doveva capire perché perché le parabole non si capiscono imparando la lingua italiana ma si capiscono prendo il cuore a Gesù Cristo e lui ti apre ti apre la mente chiusa e ottusa e allora capisce le parabole la Bibbia è il libro così così semplice c'è una condizione devi però abbandonare le tue false dottrine i tuoi cattivi spiriti non devi credere ai falsi profeti se no diventi un falso profeta anche tu e oggi la stragrande maggioranza la stragrande maggioranza milioni di cristiani sono ingannati ingannati da falsi profeti e sono disposti a morire per quello nel nome di un libro americano nel nome di un falso profeta che ha scritto un libro e lo scrivono così bene gli mettono anche un po' di verità così che così che gli sprovveduti ci credono devi credere in Gesù devi dire lo Spirito Santo però prima l'acqua prima hai capito sì quindi voglio ripetere quello che hai detto questi quattro passi che questo predicatore spinge il ravvedimento credere in Cristo battesimo in acqua e Spirito Santo questi quattro passi ci crediamo anche noi sono bellissimi sono scritturali però non come una formula obbligatoria per la salvezza ti puoi salvare anche solo credendo in Cristo se uno se uno è in una prigione e non può fare il battesimo in acqua si ravvede dal cuore si pente ed è salvato non ci sono regole solo così funziona la salvezza perché Dio non è limitato di una formula esatto esatto guarda il Vangelo distrugge le bugie di Satana e di questi imbroglioni travestiti da scrittori cristiani imbroglioni capito uno può pregare come vuole può ricevere Gesù come vuole senza ripetere preghiera a pappagallo ma è quello che lui sta attaccando la preghiera di salvezza per esempio dice che molti credenti quando evangelizzano fanno le pecorelle ripetere la preghiera di salvezza appunto perché dice i predicatori dicono ricevi Gesù nella tua vita ricevilo come salvatore ma dice lui gli apostoli non hanno mai parlato così ma è logico e bisogno del battesimo in acqua hanno insegnato alla gente di ravedersi e dice smettiamolo di dire alla gente di ricevere Gesù la preghiera del peccatore non è biblica perché una pecorella face quella preghiera Gesù entra nel mio cuore così via e poi crede che è nata di nuovo mentre non è così dice la salvezza è un processo lungo è lungo lui stesso questo possone dice io ho cominciato il processo di salvezza 17 anni fa e non sono ancora salvato sono sul cammino non so solo io quando è morto questo qua guarda voi siete nel processo della salvezza e quanto lungo è questo processo 17 anni uno è già morto 10 volte quindi c'è tanta strada da percorrere secondo lui ma guarda basta una scrittura per distruggere questo imbroglione e Romani 10-13 ripete chiunque chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato quanto domani o dopo domani subito di corsa e 17 anni e questo poveraccio dice dopo 17 anni non so se sono salvato ma è logico io non so se è mai stato salvato è solo un grande scribacchino come i farisei che scrivevano eccetera va bene io sono d'accordo che il cammino cristiano è un processo che ogni giorno impari e migliori ma non perché devo ancora salvarmi ho ricevuto la salvezza anni fa devo diventare sposato di Cristo lo voglio quello sì è un processo è una scuola il cammino cristiano perché vogliamo ottenere la corona vogliamo il massimo però non perché non sono salva la salvezza non è mia per opere devo lavorare 17 anni Gesù mi ha dato la salvezza gratis Efesini 2 8 e 9 ci dice che la salvezza non è per opere e quindi l'epistole di di Efesini Paolo ci insegna nell'epistole come diventare cristiani Amen Amen guarda salvezza non è un battesimo in acqua col protocollo che segue un protocollo formalistico di quattro passi e perché sono quattro passi scusa i passi nella Bibbia ne vedo solo uno questo qui dove li vede quattro passi cioè basta che credi in Gesù chi crede in me alla vita eterna punto un passo no questo lo deve avere quattro però vedi è tutto un contrabbandare per contrabbandare dentro infiltrare l'acqua perché perché l'acqua cerchiamo che ci entri nella zucca tutti quanti l'acqua è un'operazione che è controllata dal falso profeta dalla falsa religione va bene l'acqua è una cosa che è controllata dall'uomo quello che sta ufficiando sta amministrando il battesimo dell'acqua ti controlla senti sempre testimonianze sono andate in una chiesa a chiedere battesimo hanno detto che prima ci vorranno circa sei mesi perché perché ci vogliono sei mesi a convincere questa cocuzza che la religione vera è quella pentecostale è quella battista è quella cattolica ci vuole sei mesi a convincere uno che la religione è questa e dopo ti battezziamo cioè dopo che ti abbiamo fatto diventare una marionetta un yo-yo ed ecco ti battezziamo ci vuole qualche ci vuole qualche mese perché devi prepararti prepararti a cosa? a diventare un pappagallo addormentato che dice Dio è cattolico Dio è protestante Dio è capisci? invece lo spirito santo non lo predicano lo spirito santo sì un pochino ma non lo mettono così tassativo come l'acqua perché? perché lo spirito santo non lo controlla anzi lo spirito santo dà fastidio a tutti la cosa più fastidiosa per i falsi profeti è lo spirito santo le false religioni è lo spirito santo perché uno con lo spirito santo dice pastore ma guarda quello che dici te la parola è diversa qui non seminate divisioni alle chiese però se la parola mostra che il pastore è fuori binario sì cosa pensi di quello che dice Posson che la preghiera della salvezza la preghiera del peccatore non salva ma niente salva e tutto salva niente salva fuori di Cristo se non hai se il tuo cuore non è sincero in Cristo tutto salva se il tuo cuore è sincero in Cristo non c'è una regola Gesù tranne l'amore tranne Gesù Gesù è venuto qui per togliere c'è dalla gabbia dalle catene dei religiosi e dei farisei che non salvavano se stessi e neanche salvavano gli altri neanche davano la salvezza agli altri quindi neanche la preghiera quella preghiera non è indispensabile ma tutto ti salva se vedi Gesù niente ti salva se sei un cristiano falso non ci sono la prassi cioè la prassi dei geoviani la prassi dei mormonesi la prassi cattolicesi dei protestantesi e adesso questo come si chiama questo poson poson e si inventano le prassi pescano nella Bibbia quello che la gente crede e dice oh ma ti sono l'acqua è nella Bibbia ah devi fare questo è nella Bibbia si proprio te lo mettono te lo inquadrano in un sistema meccanico sistematico sistemico rigido controllato da loro cioè questi quattro passi c'è un punto di controllo l'acqua l'acqua ti controllano sei stato battezzato cattolico vuoi cambiare il battesimo e questo contro Dio capito il trucco invece il Spirito Santo è diverso c'è lo Spirito Santo sei a posto va bene guarda salvezza non è un protocollo ma diciamo il testimoniare diciamo fare battesione nell'acqua è massima la testimonianza mostra che tu credi in Gesù va bene quindi lasciate libere e voi i predicatori che andate in giro a incatenare le pecore con l'acqua lasciate che le pecore preghino come desiderano l'importante è che pregano a Cristo sì ma se tu ripeti la poesia adesso sei salvo adesso ho ricevuto la salvezza ma chi è quello stupido che predica così chi è che dice sei salvo se a volte a me mi è scappata una cosa così quello che volevo dire sei salvo se credi in Cristo sei salvo se sei sincero certo che uno predica due o tre ore può scappare una parola poco chiara mi sarà scappata anche me io ho pregato con uno e ha ricevuto Gesù certo che bisogna spiegare quello ho pregato con uno per ricevere Gesù l'ha ricevuto e chi lo sa deve aspettare le opere però arriva il diavolo e dice ah tu hai detto che lui ha ricevuto Gesù non lo sai vabbè è logico ho sbagliato ho sbagliato a chiarificare ma il concetto è giusto ho pregato con cento persone va bene una volta siamo andati in giro a evangelizzare mi ricordo le abbiamo contate ti ricordi Dora abbiamo pregato con 83 persone era una sera due o tre ore ci siamo vestiti coi costumi c'eri Angela abbiamo pregato con più di 80 persone con la chitarra e con costumi io avevo la chitarra e fermiamo la gente e mi ricordo uno per uno due per due abbiamo pregato con 83 84 persone e hanno pregato per ricevere Gesù l'hanno ricevuto e non lo so dovrei seguire 83 persone e vedere se domani tornano alla droga tornano all'adulterio tornano a quello che tornano o se invece dice mi sento diverso però giudicare dai messaggi che riceviamo per esempio nella nostra chiesa dello spirito la stragrande maggioranza dei fratelli che fanno il corso biblico e che fanno il corso di liberazione o che semplicemente pregano con noi alla radio o che pregano da soli senza di me è meglio di me la maggioranza si salvano sì però uno ha pregato con te fratello Giuseppe e ha detto così che non è successo niente non è successo niente perché non era pronta non era maturo la cocuzza era cerva la mela non era matura mica tutti si salvano nel stesso momento che quando Gesù ha predicato i 5.000 si sono salvati tutti non credo davanti a Pilato non se ne è visto neanche uno di questi qua tutti gridare crocificio e dove erano le migliaia che avevano sfamato aiutato guarito liberato benedetto e amato boh ma non erano tutti salvi ma Gesù ce l'ha messa tutta sì 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 era loro con il loro cuore duro che quindi quando io prego o chiunque prega qualunque cristiano di qualunque chiesa prega con gli atei o prego con chiunque hanno pregato per ricevere Gesù imbroglione non si sono salvati non tutti ma che ne so chi si salva infatti Romani 10 non dire chi salirà in cielo questo è crucifichere Cristo di nuovo e che ne so si sono salvati sì e allora fratelli lasciate che le pecore preghiano come vogliono questo qua invece di predicare di non pregate così va bene ma dovrebbe insegnare come raggiungere i perduti va bene io per me possiamo pregare alla mormone alla geoviana alla cattolica come ti pare l'importante è che la gente si salva in Cristo va bene dice primo corinzi 9 in qualunque modo quindi lasciate che le pecore preghino come desidero è importante che sono sincere e lasciate che il diavolo si lamenti quando vuole ma è la mente del diavolo se la preghiera non ti piace e non è secondo il suo cerimonialismo le sue cerimonie che sarangi va bene e se qualcuno non piace la forma dell'albero l'importante è il frutto i risultati il cambiamento in Cristo la vita nuova la pace nuova che uno comincia ad evangelizzare amare i fratelli a comportarsi nella sua chiesa in umiltà in sottomissione senza superbia senza arroganza senza fare il grande profeta sa tutto sta arrivando ad ora sul secondo binario microfono voglio dire che nel 1992 settembre mi ricordo 1992 settembre settembre ho incontrato fratelli io già da alcuni mesi cercavo il Signore gli chiedevo nelle mie parole Dio se ci sei mostrami aiutami a capire cosa c'è la salvezza lo cercavo e voi mi avete evangelizzata per strada mi avete fermato per strada mi avete evangelizzato mi avete invitato a un incontro sono andata all'incontro e a quell'incontro mi avete chiesto credi in Gesù Cristo come il tuo salvatore io ho detto sì credo e mi avete chiesto vuoi pregare per riceverlo dentro del tuo cuore non solo credere nella mente ma riceverlo nel tuo cuore ho detto di sì e ho pregato la preghiera della salvezza Signore Gesù entra nel mio cuore perdona i miei peccati riempimi con il tuo spirito santo ho fatto la preghiera della salvezza e in quel momento ho sentito una pace incredibile la mia nonna due anni prima mi ha regalato una bibbia che io l'ho aperta ma non l'ho capita in quel giorno dopo che ho fatto la preghiera della salvezza sono andata a casa e ho detto faccio una prova prendo quella bibbia che due anni prima non lo capivo e ti ripetete per immersione che è ortodossa sì 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 da piccola da piccolotta sì ho aperto la bibbia mi si è aperto il vangelo di Marco mi ricordo e per due ore non ho lasciato la bibbia delle mie mani perché capivo e mi meravigliavo e dicevo ma allora è vero allora Gesù è nel mio cuore dopo la preghiera che questo falso profeta dice non fategli pregare le preghiere eccetera e ho capito tutto il vangelo di Marco ho capito quella bibbia che due anni prima non lo capivo e piano piano anche la mia mamma cominciava a dire ma cosa ti è successo sei diversa e io l'ho evangelizzata le ho detto Gesù è nel mio cuore e questi sono i frutti della salvezza sì io potessi avuto pregare senza sincerità and I wouldn't have been saved sì ma questa gente and I wouldn't have been saved sì non sarebbe stata salvata però perché ho pregato con sincerità sono stata salvata e si è visto dai frutti certo e questa gente è che se tu hai ricevuto lo Spirito Santo ti fanno fare il battesimo nell'acqua capisci perché hai saltato un passo ti fanno fare il battesimo nell'acqua hanno il ritualismo se uno viene a noi e dice io ho già ricevuto Gesù e sono salvato non è che gli dico aspetta devi ripetere la preghierina non è che diciamo questo ma salvati come ti pare salvati alla mormonese alla geovese e alla protestantese ma l'importante è che la salvezza sia vera e lo vedremo dai frutti io ho evangelizzato il testemone di Geova ho incontrato gente meravigliosa che era già salva salvata ho fatto delle domande chi era con me io io questa dolcissima donna c'era un gruppo di quattro donne ce n'era una tutta tutta era piena di amore dello spirito di Dio si vedeva che lei è per Gesù ho investigato alcune domande era salvata e lei ha detto il mio salvatore è Gesù Cristo l'altra una donna anziana vicino a lei ha detto il mio salvatore è Geova e Gesù e l'arcangelo Michele sono la stessa cosa diceva l'anziana l'altra però la giovane ha detto no no il mio salvatore è Gesù Cristo capito dice la Bibbia se vado in cielo non posso nascondermi da Dio se vado in cielo tu ci sei se vado all'inferno tu ci sei cioè Dio è anche all'inferno a vedere se c'è qualcuno che si può tirar fuori capito va bene allora grazie Dora quindi va bene quindi la preghiera della salvezza questo qua che predica non dovete ripetere la cosa che dice non dovete ripetere non dovete fare la preghiera del peccatore con le persone perché non nascono di nuovo e se quello là con la preghiera del peccatore si salva cosa devo fare dici alt tu salvezza non conta perché ha detto il signor scrittore di libri che è sbagliato ma se si vede dai frutti non è obbligato fare una preghiera però ti aiuta lo fai meditare è obbligatorio no che non è obbligatorio no ti aiuta infatti dice Romani 10 dice se confesserai il nome del Signore Gesù Cristo se lo confessi con la tua bocca e se chiunque invocherà il nome del Signore e quindi noi per aiutare le pecorelle in una maniera di accorciare una lunga storia dice senti ti piacerebbe chiedere Gesù la salvezza ti pendi dei peccati no il pentimento deve essere nell'acqua e dove è scritto questo dalla Pentecoste in poi e lo facevano certo ma sai quante cose hanno fatti gli apposti che non sbagliate adesso ti chiederò alcune domande su quello ma voglio mettere prima una testimonianza se posso e da parte di Paolo si si che proprio spiega il battesimo in acqua e lo Spirito Santo quello che lui ha vissuto amén amén quindi non c'è niente di sbagliato fare il battesimo nell'acqua come testimonianza ma si è obbligato no se sono una chiesa che fanno quello io battezzerò in acqua spiegando che è la salvezza però in Cristo e questo e questa è una testimonianza è come dire alzare un bicchiere di acqua e dice bevo quest'acqua per testimoniare che Gesù è l'acqua di vita testimoniare che Gesù mi ha salvato gloria a te Signore e bevo l'acqua cioè capito e battesimo nell'acqua oggi è così non ci entra di male ma non dare gloria a Meggiugoria che non gli aspetta non dare gloria all'acqua che non gli aspetta non continuare a a fare circoncisione può fare circoncisione io conosco cristiani se sono fatti circoncidi per motivi medici o c'è di male niente niente uno preferisce circoncidi non c'è di male ma non andare in giro a dire che se fai circoncidi non sei salvato perché tu se tu vai in giro a dire che senza pentimento nell'acqua non sei pentito questi qua sono gente che si incontra uno che è già salvato che già c'è lo Spirito Santo e gli vanno a dire che non sono salvati è questo che mi scoccia non può andare in giro della gente che è salvata che non sono salvate che già c'è lo Spirito Santo e ma tu non hai fatto l'acqua ma questa dottrina che fa acqua da tutte le parti e la loro barca è affondata ed è sott'acqua adesso per galleggiare ci vuole Cristo Angela vai ascoltiamo la testimonianza di Paolo salve fratelli e sorelle di Radio Blast io sono Paolo che Dio vi benedica grandemente nel nome di Gesù Cristo e io da piccolo sono nato come molti in Italia in una famiglia di tradizione cattolica quindi sono stato battezzato col battesimo cattolico da bambino avevo pochi mesi e dopodiché ho fatto i vari sacramenti cattolici prima confessione prima comunione cresima che i cattolici affermano sia una conferma del battesimo ma non c'è stato diciamo nessun cambiamento in me a parte il fatto quando avevo 5-6 anni che i miei genitori dicono che quando dormivo a volte parlavi lingue però diciamo non c'è stata diciamo una vera crescita nella fede difatti poi a 13 anni quando ho fatto la cresima poi non ho più continuato ad andare in chiesa mi sono allontanato per qualche anno dalla fede per poi per poi rientrare e ricevere poi veramente il battesimo in spirito santo e la differenza è stata netta innanzitutto io avevo iniziato già a leggere le scritture prima di ricevere il battesimo in spirito santo e seppur ero salvato però non riuscivo ad avere rivelazioni sulla scrittura non riuscivo a capirle non riuscivo ad evangelizzare diciamo era come una differenza tra una bicicletta normale che va in salita e una bicicletta elettrica c'è stata una differenza netta infatti atti 1-8 dice ma riceverete potenza quando lo spirito santo scenderà su di voi mi sarete testimoni in Gerusalemme in tutta la Giudea in Samaria e fino all'estremità della terra la potenza viene dallo spirito santo e io come molti altri fratelli qua che seguono Radio Blast abbiamo sentito una netta differenza quando veramente il fuoco dello spirito santo è disceso su di noi voglio premettere un'altra cosa che molti pensano che uno deve parlare per forza in lingue quando ricevo lo spirito santo ma nel mio caso non è il dono che si è manifestato prima il dono che si è manifestato prima è che riuscivo a leggere le scritture e a capirle imponevo le mani e a volte i malati guarivano quindi questo è il dono e poi si è manifestato anche il dono anche il dono delle lingue perché i doni spirituali sono nove come è scritto in primo corinzi 12 e quindi non necessariamente bisogna parlare in lingue comunque tornando al battesimo vorrei leggere Atti capitolo 2 dal versetto 38 fino al versetto 39 la scrittura dice così allora Pietro disse loro ravvedetevi ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello spirito santo dice coloro che vengono battezzati nel nome di Gesù Cristo qua chiaramente parla del battesimo in spirito santo perché poi dice voi riceverete il dono dello spirito santo qua non parla di battesimo in acqua ovviamente ci sono molti che dicono che questo sia il battesimo in acqua ma qua parla chiaramente del battesimo in spirito santo perché poi dice voi riceverete il dono dello spirito santo versetto 39 dice poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani per quando il Signore Dio nostro ne chiamerà ovviamente la promessa non è l'acqua che sappiamo che l'acqua non necessariamente salva la promessa è lo spirito santo che il Signore ha promesso a quelli che gli credono cito a memoria Giovanni 738 di 39 dice ma chi crede in me come dice la scrittura da lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva cioè da dentro di noi sgorgerà fiumi d'acqua viva orecchie del sequestro e lo spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui poi la scrittura continua perché lo spirito santo non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato ma ovviamente questi fiumi d'acqua viva scorgono dall'interno e rappresentano lo spirito santo tra l'altro io una testimonianza recente sono stato tre settimane in una piccola missione evangelistica con un altro fratello su una zona sulla costa ionica in Calabria vicino dove mi trovo io abbiamo incontrato due fratelli evangelici che avevano fatto il battesimo in acqua e poi però gli abbiamo domandato quindi voi siete rinati di nuovo siete scritti sul libro della vita al che la loro faccia è rimasta sbigottita e non hanno saputo rispondere e gli abbiamo fatto presente che il battesimo in acqua non è che non sia biblico non è che non si può fare si può fare però non garantisce la salvezza se non c'è stato un ravvedimento prima uno entra bagnato ed esce asciutto come dice molte volte fratello Giuseppe e addirittura a questi due persone gli avevano detto che il battesimo dell'acqua gli garantiva diciamo la salvezza e quindi poi non si sono andati di informare veramente di come stanno le cose non hanno applicato atti 17-11 di verificare con le scritture riguardo a questo io tra l'altro pure lo scorso ottobre ho ricevuto una profezia a riguardo ma siccome anche se scritturali molte persone non credono alle profezie quindi do la mia testimonianza personale di quello che ho vissuto che il battesimo in acqua non garantisce la salvezza è una testimonianza che si fa davanti alle persone di quello che si è già ricevuto cioè del ravvedimento che c'è stato ma di per sé non garantisce la salvezza quello che garantisce la salvezza è il nascere di nuovo l'essere circoncisi nel cuore e poi il battesimo in Spirito Santo l'unzione dello Spirito Santo e il sigillo che Dio che Dio dà quindi fratelli spero che la mia testimonianza sia utile a molti che Dio vi benedica grandemente ancora e vi guidi in questo tempo della fine pace la salvezza